Assemblea questa mattina a Chieti dei lavoratori del Polo Museale d'Abruzzo, voi chiedete risposte certe perché ci sono problemi di personale ma non solo? Ma non solo, infatti oggi è un evento straordinario, abbiamo chiamato ad un tavolo i responsabili coordinatori nazionali, sindacati coordinatori nazionali del Ministero dei Beni Culturali per risolvere questa che noi chiamiamo un'avvertenza che dura ormai da troppo tempo, la possibilità di non dialogare con la dirigenza, la dirigenza a capo del Polo Museale d'Abruzzo. Abbiamo gravi problemi ormai annosi di carenza di personale, abbiamo gravi problemi nei siti museali e nei siti monumentali per questioni di sicurezza e di prevenzione, abbiamo gravi problemi perché i visitatori diminuiscono anno per anno, siamo l'ultima regione insieme al Molise come numero di visitatori, nonostante le domeniche gratuite e nonostante l'impegno costante dei lavoratori. Si chiede alla dirigenza di porre fine a questo modo di fare che non porta a nulla, i risultati si vedono, non abbiamo possibilità, quindi è necessario trovare una soluzione. Lo Stato del Giustizio è già in atto, noi abbiamo chiesto un tavolo di contrattazione diverso da quello che attualmente noi svolgiamo, ci siamo rivolti e ci rivolgeremo al segretario regionale e se non basta ci rivolgeremo direttamente al Ministero dei Beni Culturali.